buongiorno e buon venerdì allora pollicione se volete iscrivervi vi ringrazio attivate la campanina per ricevere le notifiche e ringrazio tutti quelli che commentano e condividono il mio materiale vi danno la possibilità magari di essere un po più visibile due notizie allora la prima e mi riallaccio al video bellissimo video fatto dai ragazzi e ragazze di radio uc mercoledì sera in merito alla notizia che è stata pesantemente strumentalizzata dei meno 200 mila percettori rdc io ve l'ho anche accennato gli ho detto c'è questa cosa ora questi dati risalgono al novembre del 2022 quindi con il governo che praticamente aveva fatto zero zero sul questione rdc non c'era ancora niente ora la realtà di questi fatti è che una parte è stata scoperta a causa dell'aumento dei controlli controlli che fino a diciamo un anno e mezzo fa facciamo un anno fa per essere buoni erano abbastanza laschi e poi sono diventati stringenti e pressanti soprattutto in due settori cioè la residenza e casellaio giudiziale quindi questi sono in un aventi diritto su quelle norme poi ci sono le persone che hanno cambiato il loro stato economico magari non trovato lavoro lo spero per loro o si sono letteralmente trasferite fuori dall'italia per cui anche quelli scompaiono attraverso la rinuncia alla radici la rinuncia diretta delle del percettore delle alle radici quindi sono persone oneste quelle ci sono quelle pubblicamente non hanno presentato la domanda di rinnovo perché magari non se la sentivano più perché ricordatevi noi quando vi parliamo di cifra media non è che vuol dire che quella è la cifra base che prendono tutti ma è la cifra media ci sono persone che di rdc prendono 100 o 50 euro ecco a fronte di certe misure a fronte di certe scocciature uno può tranquillamente di riguardo i ricci rinuncio quei 50 euro ma così non ho tutte queste belle perché bisogna sempre ricordare che una parte dei percettori rdc prende la rdc come integrazione allo stipendio come integrazione al salario non come unico mezzo di sostentamento cosa fanno determinati giornali di cui non voglio fare nome tipo il giornale la verità libera proprio la crema della crema della cartigenica fanno passare la notizia come un attacco come è arrivata la meloni ne ha beccati 200.000 no la meloni non ha beccato un cazzo secco di niente è vero secondo me ci sono persone che hanno rinunciato alla rdc nel momento in cui si è insediata la meloni questo può essere questo è fattibile questo è fattibile possono averlo fatto per tanti motivi ma nel momento in cui si è insediata la meloni magari hanno deciso di rinunciare alla rdc e passare al lavoro sotto banco tanto per continuare a migliorare la situazione del lavoro in italia ma lei non ha fatto niente e questi dati sono dati che possono essere riferiti soltanto al governo orlando cioè al governo draghi con orlando come ministro tra l'altro 200.000 adesso ma negli anni precedenti i percettori che hanno rinunciato o che sono stati buttati fuori dal provvedimento erano di più se non ricordo male 256 mila nell'anno precedente e forse 300.000 nell'anno precedente ancora quindi non è sta grande cifra ma la stampa schierata e caprona come la fa passare come l'azione della meloni il problema sapete qual è che chi le legge queste cose è ma letteralmente non è una trota un cefalo prende l'amo si fa tirare su ed è pure contento di essere stato pescato cominciate a valutare le informazioni per la credibilità che hanno non date più credibilità a questa stampa ignobile ignobile schierata e vagamente fetente per non dire di peggio tra l'altro complimenti alla regione lombardia che oltre ad avere una mummia come governatore avrà un'altra mummia in consiglio regionale perché hanno dovuto metterci dentro feltri uomo notoriamente di speccato autocontrollo con idee che diciamo fanno sembrare l'uomo di cromagnon modernissimo con una cultura tutta relativa che se si voleva mettere liberamente un maschilista fascio l'ha preso in pieno ma la prossima volta candidata ancora fontana o qualcun altro cos'è chiedete a qualche mummia nel museo egizio di torino di farsi un viaggiato a candidarsi lombardia la seconda cosa attenzione prendetela per quello che è perché come al solito anche qua grande notizia grande notizia l'unione europea ha aperto una procedura di infrazione verso l'italia a causa di alcune norme dell'era dc segnatamente la norma che vincola il potere di accesso a questo beneficio alla permanenza in italia per almeno dieci anni di cui due consecutivi questa norma va in violazione delle norme generali dell'unione europea tra l'altro un europea suggerisce tre mesi di permanenza benissimo l'italia ha due mesi per presentare le sue la sua risposta le sue deduzioni l'unione europea poi dovrà presentare le sue contro deduzioni e poi si deciderà come procedere alla velocità con cui procede la burocrazia quando avrà finito questo balletto quando questo balletto si sarà fermato l'era dc non ci sarà più perché questa norma che adesso tu c'è adesso arrivata l'unione europea la norma in questione esiste da quando esiste l'era dc cioè dal 2019 adesso voi venite qua a raccontarmi la favoletta la favoletta che adesso arriva l'unione europea e ci pensa lei ci pensa lei a fare cosa ve l'ho detto due mesi siamo a febbraio marzo aprile e l'italia presenterà le sue contro deduzioni magari le farà slittare a maggio come tradizione l'unione europea poi dovrà presentare le sue e poi si procederà perché vogliate illudere la gente che questo intervento abbia veramente un effetto sulla rdc e sul governo italiano non ce l'avrà arriver è arrivato con tre anni di ritardo perché questa cosa ve l'ho detto io avevo anche detto che per me quel dato era troppo alto era troppo alto dieci anni ma di fatto l'unione europea ha avuto tre anni più di tre anni per intervenire non ha fatto una beata mazza interviene adesso quando la misura sta uscendo sta uscendo dal welfare italiano complimentoni e complimentoni ma altri tanti complimentoni a quelli che si esaltano e dicono ma adesso arrivano l'unione europea vediamo cosa succede non succede un cazzo non succede un cazzo smettetela di continuare a seguire le falene che a fuori di seguire le falene le luccele poi finite in un burrone ragazzi cercate di ragionare in modo concreto in modo lungimirante sulle cose non inseguite i quelli che si svendono come salvatore della patria o che vi illudono su notizie che poi di fatto su di voi non incideranno manco per sbaglio perché tanto poi a sbatterci il muso non sono loro ma siete sempre voi ciao a tutti